è arrivato in lacrime questa mattina a scuola il plesso manzoni in villa comunale a pagani per chiedere che qualcuno lo aiuti a capire dove sia come sta il suo bambino victor di 5 anni il racconto di roman polacco ha toccato le corde più intime del sentimento del dirigente del primo circolo didattico paganese luigi rainone al pari di tutto il corpo docente e non di quel plesso quel manzoni in villa comunale quel plesso dove victor va a scuola anzi dove è andato a scuola fino a venerdì mattina come ogni giorno da tre anni a questa parte da venerdì di lui non si sa più nulla è sparito insieme alla sua mamma milena polacca anche lei da quello che roman ha raccontato venerdì a prendere il piccolo victor all'uscita da scuola è andato il nonno che lo ha consegnato poi a milena da venerdì pomeriggio di madre e figlio si sono perse le tracce il papà di victor questa mattina è arrivato a scuola in lacrime raccontando di essersi già rivolto alle forze dell'ordine ma chiedendo comunque aiuto anche a chi da tre anni segue victor la maestra anna spiniello racconta quello che è sulla bocca di tutti victor è un bambino sereno seguito educato e scolarizzato coccolato da tutti forse più degli altri e la sua è sempre stata una famiglia serena unita proprio per questo la vicenda assume toni ancora più drammatici un dato forse fa riflettere mamma milena segue un bambino portatore di handicap ebbene stando al racconto del suo compagno venerdì ha comunicato che da ieri non sarebbe andata a lavorare le lacrime che ci hanno colpito veramente nel profondo del nostro cuore perché essendo un'istituzione non è che siamo gente di frontiera per carità i nostri bambini i nostri alunni sono come nostri figli però quella tenerezza quel senso di responsabilità di padre dimostrando apparentemente che poi nel profondo dell'animo noi non sappiamo che cosa c'è l'appello che voglio fare io come dirigente come genitore di questa grande famiglia se c'è stato un errore se c'è stata un'incomprensione la colpa dei padri non deve ricadere assolutamente sui figli ci faccia tornare questo bambino i nostri alunni i suoi compagni lo aspettano veramente perché fa parte di noi ed io come genitore con il cuore in gola supplico questa mamma di far tornare questo bambino alla nostra comunità scolastica le nostre maestre lo aspettano a braccia aperte e poi di altre cose noi non siamo tecnici specialisti torna perché per il bene di questo bambino perché poi ci saranno delle gravissime conseguenze psicologicamente ti ripeto ancora una volta ovunque tu sei torna veramente torna portaci questo bambino a scuola che lo accogliamo a braccia aperte mi permetta di fare un passo indietro della storia lei è venuto a conoscenza solo la mattina sono venuto a conoscenza della storia del fatto diciamo che questo genitore disperato con le lacrime agli occhi e lo ripeto ancora una volta mi ha commosso veramente e perché è la situazione non è da prendere sotto gamba non è da prendere sotto gamba